Prolungato intervento dei vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di mercoledì fino alla prima serata a Restena, una frazione di Arzignano, dopo il balzo accidentale di una vettura finita nel torrente Guà. Nonostante la caduta verso il piano sottostante occupato dal letto del corso d'acqua, il giovane conducente è uscito in autonomia, praticamente illeso, solo qualche graffio senza necessità di recarsi al pronto soccorso. Una volta sul posto i pompieri si sono occupati di mettere in sicurezza il mezzo piantato nel torrente conficcato con la parte anteriore nella vegetazione. Danni importanti sono stati riportati alla carrozzeria della monovolume rimessa in strada grazie all'utilizzo del braccio meccanico di un autogru. Il conducente si è trovato a ringraziare la presenza di piante basse ed erba che hanno attutito l'impatto dopo l'uscita di strada consentendoli di uscire autonomamente e in colume.